Vengono chiamati post-macchiaioli, ma la definizione non rende loro giustizia, perché quegli autori di fino a 800, uniti dalla vocazione per il vero e per i soggetti tratti dalla vita quotidiana, mettono sì a frutto gli insegnamenti dei maestri macchiaioli, ma vi aggiungono il racconto biografico, la lettura iconografica, la ricerca storico-sociale. La loro arte è protagonista della mostra La luce del vero, curata da Simona Bartolena, prodotta e realizzata da Vidi, in collaborazione con il Comune di Lecco, il sistema museale urbano lecchese. 90 opere provenienti da collezioni pubbliche e private in esposizione a Palazzo delle Paure dal 18 marzo al 19 giugno. La mostra racconta l'eredità della pittura di macchia fino all'inizio del novecento, quindi tutti quei pittori che hanno preso la lezione soprattutto di Telemaco Signorini, di Silvestro Lega e di Giovanni Fattori e l'hanno portata verso la modernità, ognuno con la propria personalità. Il focus è soprattutto sulla campagna fiorentina e sulla città di Livorno che a fine ottocento era veramente un centro attivissimo culturalmente e artisticamente ed è un racconto per andare a scoprire una tipologia di pittura che da noi è abbastanza poco vista, perché si parla tanto di macchiaioli, si parla un po' meno di questa generazione, tra cui ci sono dei maestri straordinari come ad esempio Oscar Ghiglia, piuttosto che altri pittori meno noti come Tommasi, Gioli, Lloyd, Liegi, artisti assolutamente da scoprire che però dà voce a un momento storico di grandi cambiamenti e di passaggi di testimone che superano di interesse il confine territoriale. La mostra si inserisce nel percorso espositivo iniziato nel 2019 che approfondisce la scena artistica italiana del XIX secolo e che proseguirà anche nei prossimi tre anni. Noi siamo partiti qualche anno fa già pensando di fare un percorso nell'Ottocento, ora questo percorso non solo si è deciso di continuarlo ma si è dato anche una prospettiva di tre anni, quindi in questa prospettiva significa che si può raccontare una storia lunga un secolo o quasi già sapendo di doverla raccontare. Qui c'è una continuità preziosissima.